buongiorno amici e amiche di nova news 24 questa sera una grande puntata dell'isola dei famosi corin luca marco natalie o pamela chi uscirà dall'isola dei famosi i sondaggi sono chiari lunedì è arrivato ed è il tempo di sondaggi chi sarà il naufrag eliminato della settima puntata dell'isola dei famosi tra corin cledi luca vetrone marco mazzoni natalie caldo nazo e pamela camassa vediamo un po cosa sta succedendo sul web ripetiamo questi sono solo sondaggi lanciati da alcuni siti come per altre puntate anche questa volta il pubblico dell'isola dei famosi è stato chiamato a votare in positivo ovvero chi vuoi salvare ricordiamo che il naufrago che perderà sarà dovrà vedere con gli altri naufraghi che sono sull'isola di sant'elena secondo i sondaggi la più votata dovrebbe essere proprio una tra natalie caldo nazo e pamela camassa un sito infatti da proprio natalie caldo nazo in testa corin cleri al secondo posto natalie caldo nazo con 33.98 mentre corin cleri al 20.72 ma la camassa 18.78 marco mazzoli 16.02 luca vetrone 10.50 quindi luca sarebbe eliminato natalie e pamela conducono anche un altro sondaggio con il 32.26 per cento dei voti corin al 17 per cento mazzoli a 14 e luca anche all'11 e poi il terzo sondaggio di un altro sito web vede sempre luca panalino di coda ma in questa volta in testa pamela camassa con il 32 per cento e natalie caldo nazo col 29 al secondo posto poi corin cleri al 18 marco mazzoli solo al 12 per cento intanto vi diciamo chi sono stati gli eliminati e ritirati ricordiamo che è stata veramente uno sparo sulla croce rossa quest'isola dei famosi perché ci sono stati tantissimi ritirati per colpa delle condizioni fisiche per ora in honduras abbiamo alessandra duisan andrea lucicero cristina scuccia corin cleri fabio ricci luca vetrone marco mazzoli natalie caldo nazo pamela camassa sull'isola di sant'elena abbiamo già maria sainato e elena prestes poi quelli ritirati sono stati claudia motta per condizioni fisiche marco pedolin anche lui per condizioni fisiche simon antolini anche lui si è ritirato e alessandro cecchi paone ovviamente in coppia con simon antolini è stato ovviamente una conseguenza del fatto che simone si sia sentito male poi fiore argento anche lei per un fattore fisico cristofer leoni invece stato eliminato e paolo noise anche lui per condizioni fisiche quindi attenzione quasi tutti si sono dovuti ritirare sull'isola dei famosi per problemi fisici cosa succederà lo vedremo stasera intanto si prospetta una bella puntata con tante sorprese vi chiediamo chi secondo voi dovrebbe uscire questa sera dall'isola dei famosi intanto se vi è piaciuto questo articolo mettete il pollice in su e seguiteci sempre su nova news 24